oggi ho ricevuto questa email del servizio elettrico nazionale che mi chiede 3 17 con scadenza 23 0 18 problema che io ho finito di essere cliente servizio elettrico nazionale da più di un anno e mezzo del novembre di due anni fa e questi qua dopo un anno e mezzo mi vengono a chiedere i soldi 3 o 17 per me a me sembra la follia poi chiamo il numero verde mi chiede deve andare a pagare e c'è la fattura elencata nell'email ma io poi fatturano niente volevano sapere anche il mio indirizzo di casa per me è un'azienda sono fuori di testa questi questo è un fuori di testa